Ehi gente, è questo è Vio, ben ritrovati sul lato strategico del canale con una nuovissima serie, con una uovissima serie Darkest Dungeon. Allora, ci ho pensato a lungo quale gioco portare sul lato strategico, effettivamente dopo Proiettorials pensavo di portare Total War. Poi ho pensato a Final Fantasy X2, visto che stavo facendo la 100% completion sul canale, ho detto ma si passiamo alla commentary. Poi ho detto ma sono troppo facili, alla fine non c'è tanto intrattenimento nel guardare dei giochi troppo facili. Quindi, scrollando dalla mia libreria di Steam, ho visto questo gioiello, mentre la gente gioca già Darkest Dungeon 2, che io non ho ancora visto, non ho visto neanche un video di Darkest Dungeon 2 effettivamente, non so come sia. Però io adoro Darkest Dungeon, il primo ci ho davvero grindato ore e ore e ore. L'ho finito in modalità Stigen, che sarebbe la modalità oscura in italiano. Io l'ho giocato in inglese, non mi ricordo perché, forse perché non c'era ancora l'italiano, oppure era il periodo in cui io volevo imparare l'inglese, quindi facevo qualsiasi cosa in inglese praticamente. Infatti il risultato è che non so parlare né l'italiano né l'inglese. E voglio portarlo. Il punto è che ho visto che ci sono, ne hanno messo tanti DLC, tra cui Butcher Circus che non ha più pallida idea di che cosa sia. Vi giuro, io non ho idea. Quando ci giocavo io non c'era Butcher Circus. Neanche Moschettiere, Flagel, non so che cosa siano queste cose. Crimson Court me lo ricordo, ma non so se ci ho giocato oppure ho visto qualche video, perché ero davvero un fan della serie ai tempi. Quindi, togliamo perché, da quel che ho letto, è la modalità multigiocatore, che non mi interessa assolutamente. Grazie. Call of Madness? Non lo so se toglierle e ottenerle, onestamente. Attiva anche quattro nuovi edifici nei distretti della città. Secondo me è meglio toglierle. Giochiamo Blood Moon? Non lo so. Togliamola. Giochiamo Blood Moon, perché ho intenzione di giocare modalità Stigian, che sarebbe la modalità oscura, la più difficile di tutte. Giusto per rendere il video più interessante. In che cosa consiste? Nemici fanno più danni, ovviamente. Hanno più probabilità di critico, hanno più vita, hanno il pisello più lungo dei nostri eroi, hanno ragazze più belle e così via. Noi siamo di tutto inferiori, ovviamente essendo Darkest Dungeon un gioco molto ingiusto, sarà ancora più ingiusto. Però credetemi, molti dicono che sia un giusto, non è una mia idea. È un gioco molto giusto. Se si imparano le meccaniche di questo gioco, diventa molto equilibrato. Sembra difficile in apparenza, ma è molto semplice invece. Comunque, Stigian, inoltre c'è non solo i nemici sono più forti, ma abbiamo anche un limite di tempo, quindi 84 settimane, che dovrebbero essere circa due anni, considerando che ci sono quattro settimane in un mese circa. Facciamo 4 per 12, fa tipo 25 elevato al quadrato, sì, sono tipo due anni se non sbaglio. Iniziamo la campagna. Luna di sangue. Luna di sangue dovrebbe essere Bloodmoon mista a modalità Stigian. Bloodmoon non l'ho mai finita in modalità Stigian, perché non mi ricordo se ci ho giocato a Bloodmoon o se ho visto qualche video. La modalità normale l'ho finita in Stigian, questo me lo ricordo, però Bloodmoon non lo so, quindi... Sono poco propenso, essendo un roguelike, se me la gioco male, facciamo che tra 30 episodi arrivo verso la fine e me la gioco male. Ogni salvataggio sovrascrive i precedenti, quindi rischio di buttare 30 episodi nel cesso per una cazzata. Ed essendo un'esperienza che non ho mai affrontato, la temo. Ma io ho i controcoglioni e me la rischio. Niente oscuro, la chiameremo... Moriremo tutti. E iniziamo questa avventura. Allora, qual è la storia? Vediamo se ce la racconta il nostro narratore. Sì, ce la racconta lui, più o meno. Cioè, possiamo farci un'idea di cosa sta succedendo. Noi non abbiamo un volto, noi siamo, diciamo, un generale. Senza faccia. Vedete quello che c'è sul sole? Quella è una cittadella, chiamiamola così. Un borgo. Borghetto, chiamiamola così. Borghetto, perché è una cittadella. Stiamo viaggiando in carrozza, diretti verso quel villaggetto. Maledetto. E dei banditi ci sabotano, diciamo. Mettono una trappola e la nostra carrozza, il nostro viaggio, si interrompe. Vai a fare in culo! Questo ci sta dicendo il fantasma. Torna dove sei venuto. Il carrozziere è matto. In questo gioco sono tutti pazzi. Quasi. Quasi tutti. Ma in questo gaping abyss... We will find redemption. Bellissimo. Io adoro questo narratore. Cioè, possiamo capire dalla voce che è molto giovane. Probabilmente 14 o 15 anni. No, ma io adoro questa voce davvero. Mi manda fuori di testa. E secondo me, senza narrazione, questo gioco non sarebbe così bello. Cioè, le meccaniche sono belle, però la narrazione davvero aggiunge quel non so che al gioco che è... Quella immersione. Ti sembra di leggere un libro mentre giochi. Praticamente, noi stiamo quei generali senza volto che gestiamo un gruppo di mercenari. Qual è il compito di questo gruppo di mercenari? Liberare il nostro villaggio dalla maledizione. Perché stiamo andando a questo villaggio? Perché nostro zio, nostro pa, no, penso sia nostro zio, ci ha fatto ereditare questo villaggetto quando è morto. A quanto pare, presumibilmente, si è sparato in testa. Noi abbiamo ereditato questo villaggio maledetto. Il nostro compito è assumere questi mercenari, addestrarli e liberare il villaggio dalla maledizione che lo affligge. Noi ancora non sappiamo quale sia questa maledizione, ma sappiamo che stanno comparendo tanti mostri, tanti psicopatici. La gente va fuori di testa, anche se probabilmente lo era già prima, molto prima. Il villaggio sta andando in rovina e sta a noi ricostruirlo e liberarlo dalla maledizione con questo gruppo di mercenari. Noi, la nostra faccia non si vedrà mai. Questi sono i primi due mercenari che abbiamo. Dismas, il crociato. Dismas è il fuorilegge, che sarebbe highwayman in inglese. E Reynold, il crociato, il crusader. Lui ha tanti danni, tanta vita. Però, questa cosa, ovviamente essendo un gioco bilanciato, ma comunque al nostro sfavore nelle probabilità, deve essere bilanciato in che modo? È lentissimo, quindi velocità 1. E inoltre le sue abilità non hanno molta precisione. Invece Dismas, il fuorilegge, poca vita. Concentrato sul danno. Le sue abilità fanno sanguinamento, possono colpire a distanza, perché sia una pistola che un coltello. Ha un alto danno, una probabilità di critico elevata, una buona schivata, a differenza di Dismas che ne ha 7. E è molto veloce. Adesso, possiamo scegliere sulla mappa. Abbiamo l'inventario, la mappa è l'ordine del gruppo. Possiamo scegliere dove andare, ovviamente c'è una sola direzione, quindi andremo verso la prossima stanza. Zitto, spiego io come si gioca. Praticamente, queste caselle è il percorso, è il nostro percorso verso la prossima stanza. Ogni casella esplorata consumerà dalla nostra luce, dalla nostra torcia, la luminosità. Ogni stanza nuova, quindi quella nera che esploriamo, consumerà 8 della nostra luce. Quindi, guardate, 7, ok, mi ricordavo male. Consumerà 7 della nostra luce. E invece, tornando a ogni stanza esplorata, consumerà uno solo della nostra luce. Ogni 25%, quindi se scende sotto le 75%, la nostra luce radiosa diventerà sempre più piccola, sempre più debole, più debole, più debole, fino ad arrivare a zero dove è buio o scuro. Ovviamente, alla luce abbiamo più schivata, più esplorazione, è più probabilità che i nostri nemici, diciamo un attacco prioritario, la possibilità di colpire per prima i nostri nemici, di sorprenderli. Invece, nella luce buia, al buio ovviamente, è tutto il contrario, meno schivata, meno esplorazione, è più probabilità che noi siamo sorpresi dai nemici. Allora, proseguendo, vedrete adesso. Ogni casella c'è una probabilità che succeda un evento, tra cui cimeli e combattimenti. Abbiamo una probabilità, ogni volta che entriamo in una stanza, che tutte le stanze che ci circondano vengono esplorate. Questa probabilità è del 25%, se non sbaglio. No, forse più bassa, non mi ricordo manco più. Però, se non è esplorata, noi non sappiamo che cosa succede. Però, se è esplorata, ci compaiono le icone su ogni quadretto, per esempio, battaglia, cimelio e così via. Ovviamente, non tutte le caselle avranno un evento, però, tante ce l'avranno. Allora, le nostre abilità sono colpo a raffica, abbiamo quelle bianche, quei puntini bianchi che vediamo. Sono, e non riesco a muovere il mouse, sono la posizione dalla quale possiamo utilizzare. Quest'abilità la possiamo utilizzare se essendo 1, 2, 3, 4. Ci sono 4 slot. In questo caso abbiamo solo 2 truppe, quindi non è rilevante spiegare. Però, possiamo utilizzare dalla prima, dalla seconda e dalla terza posizione. Questa qui è dalla seconda, dalla terza e dalla quarta. Questo qui è dalla seconda e dalla terza. Quindi, se fossimo davanti, al posto del crociato, noi non potremmo utilizzare né il colpo di pistola, né la raffica. Tutto il quere in questa invece si può utilizzare da dove cavolo mi pare. Abbiamo il modificatore di danno e la precisione. Il modificatore di danno significa che questo danno qui sarà ridotto del 15%, oppure aumentato, bla 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 bla. In questo caso è ridotto, meno 15%. Quindi, il nostro 4,8 diventerà 4,8, meno 15%. Invece, il colpo di pistola ha la precisione, 95%. Quindi, per esempio, la pistola non è molto precisa. Abbiamo il 73% di probabilità di colpire il nemico. Invece, con il coltello, abbiamo il 93%. Si vede qua in basso a destra. 93%. Ovviamente, giocherò per il 93% anche perché lo squarcia vene causa anche dissanguamento ai nemici. E il meno 20% di resistenza ai seguimenti successivi. Andiamo con lo squarcia vene. 6 di danno. Quindi, non è andata così male. Diciamo un attacco medio. E con lui punterò sul colpo stordente perché questo fa danno ma è poco preciso. Invece, colpo stordente, abbiamo un 100% di probabilità di stordire. Però, non è così che funziona. Sarebbe troppo facile. Possiamo vedere sotto ai nemici resistenza. 25% di resistenza allo stordimento. Quindi, sarà 100% o meno 25%. Io avrò il 75%. 3 possibilità su 4 di stordire il nemico con questo attacco. Vediamo se siamo fortunati. Lui è stordito. Il che vuol dire che la sua azione rimanente, lui non potrà muoversi. Il sanguinamento che abbiamo applicato, verrà applicato a ogni sua azione. Quindi, se il suo stordimento, per esempio, continua. Comunque, conto come azione. Semplicemente, cancellerà la sua azione. E il prossimo a... Fino alla prossima azione, lui sarà resistente del 50% agli stordimenti. Questo è per ogni truppa, sia alleata che nemica. Ovviamente, per evitare che rimaniamo sempre storditi. Punterò di nuovo allo... Lo squarciaven a uno di vita. Questo qui è finito. Il nemico è andato. E ogni nemico... Mille di oro, così tanto. Ogni nemico ci dropperà un oggetto. Qualche oggetto. Non è ogni nemico, in realtà è sbagliato. Non è ogni nemico, però la maggior parte dei nemici ci daranno degli oggetti. Questo qui, invece, è un evento. Oggetti interattivi, reperti. Ok, non è C-medio, è reperto. Vediamo che la nostra luce si è un po' sbiadita ed è diventata luce soffusa. Quindi, avanzando, soffriremo più stress e i nemici hanno più probabilità di critico. L'esplorazione e i mostri sorprese rimangono uguali. Possiamo interagire con questo reperto come? Premendo W, oppure su. Oppure E. Che cosa devo premere? Spazio. Au. Perché non posso interagire? Hm? Perché? Devo premere su, sono sicuro che devo premere su. No, non mi fai interagire, è strano. Strano. Comunque, possiamo camminare avanti e indietro. Questo non l'ho detto, possiamo camminare avanti e indietro. Ovviamente, camminando lì indietro, siamo più lenti e c'è una probabilità, cioè, è elevata la probabilità di subire dello stress. Spiegheremo cos'è lo stress più tardi. Però è una meccanica molto importante in questo gioco. Non capisco perché non potevo interagire con quelci meglio. Ogni nemico occupa dello spazio. Le nostre truppe occuperanno tutte uno uno di spazio, quindi abbiamo quattro slot. Anche i nemici hanno quattro slot. Però ci sono i nemici grossi, come in questo caso, è questo tank qui, sanguinario e brigante, che occupa due spazi. Come potete vedere, la nostra scorcia vene colpisce solo due spazi avanti, quindi questo contando come due spazi io non posso colpire la truppa dietro, che sarebbe il mio obiettivo, essendo uno che ha meno vita, ed essendo un bastardo che colpisce a distanza, fa molti più danni rispetto al brigante. Voglio eliminarlo per primo. Perciò utilizzerò il colpo di pistola con un 78%, però ho il 12% di critico, quindi mi sento molto confidente, però rischio anche che lui lo schivi. Infatti, Darkest Dungeon. Questa abilità colpo raffico causa un debuff. La diminuzione dell'abilità di schivata. Anche loro hanno la probabilità di colpire. Io utilizzerò Bastione della Fede, che aumenta la mia torcia, quindi mi darà più probabilità di critico, più mira, ma allo stesso tempo diminuirà del 20% i danni subiti, quindi il 20% di protezione. E sarà targettato principalmente dai nemici. Non vuol dire che i nemici miraranno solo a lui, però c'è una maggiore probabilità che i nemici mirino solo a lui. Schivato. Perché dico che sia comunque un gioco ingiusto? Perché, comunque, statisticamente parlando, Darkest Dungeon, vedete, 100% di colpo critico, di stordimento. Se io adesso, per esempio, lo è al 50%, io non lo stordisco. Con grandissima probabilità il prossimo attacco lo stordirà. Comunque, diciamo che è molto equo sulla statistica questo gioco. Lui prima mi aveva colpito, una volta, con il colpo a raffica. La volta dopo non mi ha colpito. Questa volta non mi ha colpito di nuovo. Molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, se lui rimane vivo e utilizzare di nuovo il colpo a raffica, mi colpirà. Su questo aspetto, su queste statistiche, il gioco è molto corretto. Però, ci sono molti aspetti che sono ingiusti. Ma vi garantisco che una volta che si impara a gestire... Eh, vabbè. Figurati. Una volta che si impara a gestire le probabilità a... Sa, si capisce quali azioni bisogna intraprendere e quali no, il gioco diventa davvero facile. Vado sempre per il distanguamento, perché ovviamente sono danni extra. Punto per lo stordimento, perché... Ovviamente è svanito il buff, 50% di resistenza allo stordimento, essendo lui sopravvissuto al primo stordimento. Lì, avendo compiuto un'azione, e dura un solo round. Menos 3% di velocità. Allora, di nuovo distanguamento. Quindi, i distanguamenti staccano. Cioè, aumentano uno sopra l'altro. Però, quello precedente, quello che ho usato prima, quel sanguinamento, dura comunque 3 round. Non è che si aumenta, aumenta e si refresca ogni volta. Quel sanguinamento che c'era prima, quella ferita iniziale, bisognerà comunque dopo 3 round. Anche se c'è scritto qua, 3 round. Non durerà 4 danno per 3 round. Dovrebbe durare... La durata rimane la stessa, comunque. Allora, Rubini. Oh, ma cosa sono questi drop? Sono davvero fortunato. Una volta finita la missione, posso scegliere di tornare al borgo, oppure di rimanere e continuare l'avventura. Io in questo caso rimango, perché voglio vedere che cosa c'è nel chest. Anche se, molto probabilmente, sarà... C'è qualcosa che non torna qui. Bovele dei banditi con trappola. Proviamo ad aprire, magari sono fortunato. E c'era scritto. Morbo è uguale al sanguinamento. Semplicemente, per i nostri eroi è uguale. La differenza sta nel fatto che... Del tipo di truppe. Alcune truppe sono resistenti al sanguinamento, alcune truppe sono resistenti al morbo. Però, alla fine, è un po' un sanguinamento... Come dire... È un sanguinamento verde, diciamo. È un avvelenamento. Questo perché alcune truppe resistono al sanguinamento, altre resistono al morbo. Per esempio, il dottore della peste resiste al morbo, ma di meno al sanguinamento, e così via. 5.000 di oro e 2.760. Andiamo al prossimo. Ogni fine missione, un nostro eroe ha una possibilità di ottenere un quirk, cioè un pregio o un difetto, chiamiamolo così. Lo staremo a scoprire tipo... Coagulo rapido. 15% di resistenza al sanguinamento. Mi piace. E lui, però, ovviamente avrà un debuff. No, è un... E lui ha avuto picchiatore. 10% di danno corpo a corpo. Quindi il nostro colpo con il coltello dovrebbe avere più danno. Appena sbloccherò le baracche degli eroi. Così dovrebbe essere. Quello è il villaggio completamente potenziato. Ma credetemi, adesso lo vediamo. Borgo, sì. Si chiama Borgo, non il villancetto. Noi l'abbiamo ereditato, stavo dicendo, dal nostro zio che si è suscidato. E dobbiamo liberarlo da questa maledizione. Dobbiamo completare le missioni per sbloccare ogni edificio, quindi circa 5 missioni per sbloccare tutto. Ma fin dall'inizio abbiamo sbloccato la dirigenza. Che cos'è la dirigenza? È, diciamo, una baracca degli eroi. Ci permette di reclutare nuovi eroi. Ovviamente all'inizio troveremo sempre il pestilenziale, il dottore della bestie, della bestie, della peste, delle bestie. E un cleric, un cleric, un... come cavolo si chiama? Ma c'è scritto qua una vestale, porca miseria, mi basta leggere. La vestale sarebbe un dottore, un dottore che, come dire, è una garanzia di cura. Io preferisco l'occultista perché è più una scommessa. Può cambiare il gioco in meglio o in peggio. Molto spesso, se si sanno utilizzare le statistiche, causerà, come dire, è una scommessa vincente l'occultista, a differenza della vestale, che è solo una garanzia. Invece, come dire, è un safe... È una giocata molto tranquilla, molto sicura, che punta sulla vestale. Invece, se vuoi vinceremo dal testigen, devi comunque puntare sulla scommessa. La vestale è utile anche perché ha l'abilità di stordimento. Vediamo se ce l'ha, in questo caso. Ce l'ha, ce l'ha. Lui ce l'ha accanto. Quindi lo otterremo nel quarto slot. Ogni eroe ha delle abilità, le vedremo più tardi quando sbloccheremo la caserma degli eroi. Lui ce l'ha... Ah, le abilità proprio iniziali. Quale a cui punto io è l'attacco fendente e il colpo di... Lì. Il passo del duellante, che mi causerà contro... Come paura si chiama? Contrattacco e colpo bruciapelo. Vedrete poi che cosa intendo. Al momento abbiamo sbloccato il borgo, i vari edifici. Gli unici edifici che abbiamo sbloccato sono Memoria dell'antenato, dove vedremo tutte le scene... Tutte le scene del gioco, praticamente. Invece... Il cimitero dove vedremo tutti i nostri ragazzuoni morti. In questo caso, vedete abbiamo... Ah, 16. Probabilmente in Blood Moon. Io mi ricordavo 12 per qualche motivo. Perché mi ricordavo 12? Forse è in Blood Moon che sono 16. Oppure hanno cambiato il gioco, hanno aggiornato. Non lo so. E questo è il caro dei nomadi che ci vende dei cimeli. Tali sbagli. Costano tanto, però ognuna da... Dei debuff e dei debuff. Molto spesso quelli che danno solo buff sono abbastanza inutili. In questo caso, più 5 precisione dell'abilità corpo a corpo. Questo qui invece ci dà... Fettisce e sanguinato. 20... Ha resistenza al mormo? Mormo? Beh, però almeno 20 ha le malattie. Non mi piace, non vuole nessuno dei due. Non voglio certo spendere il mio oro. Preferisco spendere il mio oro per potenziare le truppe più tardi. Imbarchiamoci per la prima missione. Facciamo anche una missione prima di continuare. Lo lascio parlare. Perché io adoro questo narratore. Ogni volta, prima di iniziare una nuova missione, ci... Come dire... Ci ritroveremo le varie zone in cui possiamo fare le nostre missioni. In questo caso possiamo già entrare fin dall'inizio in Darkest Dungeon, che è livello 6. Vi garantisco che non sopravviveremo a questa cosa. Invece, questa cosa qui si chiama dungeon normale. Praticamente livello 1, aprendista, molto facile. Dobbiamo esplorare il 90% delle stanze. Ci darà questo C meglio e questa ricompensa se lo faremo. Possiamo scegliere le truppe che utilizzeremo. Ovviamente avendone solo 4. Io uso la formazione standard. Infatti si chiama I soliti sospetti. È proprio la formazione standard di Darkest Dungeon. Proprio quella da Newbo, che usano tutti. Però non vuol dire che sia debole. È davvero efficace come formazione. E allora, noi scegliamo l'unica che abbiamo disponibile, che sarebbero le rovine. Ogni missione completata riempirà questa barra. Una volta che la barra sarà completata, sbloccheremo il boss particolare della zona. Lo scopriremo più tardi che cosa significa. Però in questo caso non ci sarà alcun boss. Proviste per il viaggio. Dobbiamo comprare sempre del cibo. Quindi compro sempre una stack di cibo. Io compro almeno 12. Però non diamo sempre una vanga. Vedremo se ci servirà. Ma in realtà a me ne basta uno. Credo sia piccola. Essendo nelle rovine ci sono amici che causano sanguinamento. Quindi prendiamo almeno due bende. Una chiave che ci servirà per aprire dei forzieri. Acqua santa ce l'abbiamo. Essendo contro dei amici non santi. E ci serviranno assolutamente le torce per la luce. Io gioco sempre con la luce. Molti scommettono e giocano al buio. Però ovviamente saranno prima dei cimeli per giocare al buio. Non possiamo già giocare al buio fin dall'inizio. Perché è un punto uno lo stress. Punto due non abbiamo cimeli che ci diano buff al buio. L'unico modo per compensare il fatto che sia buio è sfruttando i cimeli. Vedete che noi già abbiamo più zone da esplorare. Ovviamente possiamo andare di nuovo solo in una stanza. Perciò proseguiamo di qua. Avanzando troveremo dei reperti. Vediamo. Anche delle trappole. Non è detto. Prendiamo la torcia. La raccoliamo. E proseguiamo. Nessuna battaglia? Molto strano. Click destro per aumentare la torcia. Quindi luce radiosa di 97%. Entrando nella stanza dovrebbe scendere a 83%. E invece non è ancora. I primi due nemici. Dieci fante di ossa. Dieci di vita. Ah, inoltre la vest... No, il crociato se non sbaglio. Fa più danni ai nemici. I nemici hanno le loro classi. In questo caso sono non morti. Però li chiamano Empio. E il crociato fa più danni ai nemici Empi. Ma mi pareva anche la vestale facesse più danni ai nemici Empi. Strano. Me lo ricordo male. Utilizziamo luce accecante per stordire il nemico dietro. Ha funzionato. E aumenta anche la luminosità della torcia. In questo caso era quant'era? Del 6. L'esplosione nauseante causa la pestilenza. Morbo. 5 punti ogni 3 round. Cioè, per 3 round. 5 punti al round. La utilizzeremo su questo qua. Possiamo utilizzare incisione ma causa di sanguamento con un 100%. Ovviamente, essendo uno scheletro, potete immaginare come fa uno scheletro a sanguinare. Visto che ha il 200%... Cioè, non ha il sangue però. Con i debuff possiamo far sanguinare uno scheletro. In questo caso, avendo il 200% di resistenza al... Di sanguamento. Sarebbe stupido utilizzare incisione. Sarebbe uno spreco di turni. Perciò utilizziamo esplosione nauseante. Perché lui non ha resistenza al morbo? Ah, è solo un 10%. Dovrebbe funzionare. 90%. Infatti, voilà. Penso di utilizzare raffica. È poco preciso. 75% di colpire. Quindi, 3 volte su 4. Credetemi, se 85% non è una bassa probabilità. In questo gioco è bassa. Però, me la sento. Quello stordito non farà niente. Questo morirà per il morbo, molto probabilmente. E penso di utilizzare l'accuso a Zelante per uccidere tutti e due. E raccoli il 600%. Mi pare che su questo forziere non funzioni, la Paspartout sia sprecata. Sono tanto... Cioè, è tanto tempo che non ci gioco. Direi quasi due anni, forse. Forse tre. Quindi, mi ricordo che Paspartout non funziona. Amuleto è cercante. Quindi, penso di darlo... Ah, lo do a lui o alla Vestale? Vestale, ah. Sì, diamo la la Vestale. Questo oggetto non c'era. È nuovo. Non mi ricordo di dare l'ammuleto a cercante. Se non è un oggetto nuovo. Ecco, quando troveremo i detriti, possiamo scegliere di utilizzare una vanga oppure di utilizzare le mani. Utilizzando le mani rischiamo di perdere della vita e aumenterà il nostro stress di 25. Il che è una cosa molto sfavorevole. Perciò utilizzeremo la vanga per rimuovere i nostri detriti davanti che ci bloccano il percorso. Non c'è modo di aggirare il percorso. Ok, qui. Ma ci sono la torcia giusto in tempo. E adesso direi di uccidere questo perché questo gioca sullo stress. Il cultista accolito gioca sempre sullo stress. Perciò dobbiamo puntare per forza a lui. Il 73% è basso, quindi lo mancherò se lo non è. E invece l'ho colpito. Però... Devo buttare giù questo perché gioca sullo stress. Lo voglio assolutamente uccidere. Mi colpirà comunque qualcuno. Adesso farà l'abilità cantesimo stressante. Boom. Aumentare di circa 13. Sì, 15. E diminuisce anche la luminosità della torcia. Noi utilizziamo la luce cercante. Ormai non ha senso attaccarlo perché il prossimo turno lui prenderà 4 di danni. Lo è a 3 di vita. Quindi il prossimo turno muore per forza. Puntiamo più che altro alle truppe... Alle altre truppe. Posso di puntare a lui perché è più forte. Dovrebbe avere 15. Però è spinto! Che sfiga! Era un 85%. Meno male che ho preso il C meglio. Porca miseria. Allora, appunto a lui. Dovrei ucciderlo se lo colpisco. No! Allora sono sfigato. E stiamo iniziando proprio a vedere Darkest Dungeon. Lui è morto per, come avevo promesso, per il veleno, per il morbo. Puntiamo a lui. Si prende il morbo. 5 ogni round. Direi di... Colpo di... No. Colpo a raffica. Così muore a quello dietro. E vediamo... Vediamo se riusciamo a colpirlo prima. Allora, quello lì è un cadavere. Che cosa significa? Non farà niente. Ma niente se non bloccare il percorso. Che vuol dire che se c'è una truppa dietro, finché non eliminiamo il cadavere, lui la truppa dietro non si sposterà. È una cosa che si può disattivare, però... Renderebbe il gioco troppo facile. Io voglio soffrire. Diciamo che funziona da muretto. Non blocca niente se non gli spostamenti dei nemici. Ok, l'abbiamo stordito. Ed è andato. Ovviamente le prime missioni sono davvero facili. Si possono fare senza problemi. Sigilo del difensore. 500 protezione. Sì, lo metto. Però diminuisce la probabilità di critico. Non mi interessa. Cediamo la torcia. Questo è uno zaino. No! L'ha rubato? Porca miseria. Allora. Una cosa di cui non vi ho parlato. Ogni eroe ha... Dei... Pregio dei difetti. I tratti si chiamano. Pregio. Guerriero della luce. Quindi se la torce sopra il 75%, lui fa più di 10% di danno. Bla 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 bla. Il problema è che lui ha cleptomania. Quindi è incline a rubare gli oggetti. Che significa? Che ogni volta che troveremo qualcosa, un forziere o qualcosa di buono, lui... Non mi ricordo la probabilità, ma c'è una probabilità che lui rubi tutti gli oggetti e noi non li prenderemo noi. Se li prende lui. Questo. Devo guardare. Fammi girato bar. Non gli ha concesso il gi... Non gli ha concesso il gi... Non gli ha concesso il gioco d'azzardo. Lui? E non è presa. 10%... Ah, questo qui morirà di sicuro. Ve lo dico già. E anche lui non può giocare. Gioco d'azzardo. E lei? Ieromania. Io ci ho giocato in inglese, quindi non le riconosco. Non le riconosco minimamente queste cose. Ok, questo è un forziere. Oh, ci hanno sorpreso. Dai, con la torcia al massimo ci ha sorpresi. Mi prendi per il sedere? Allora, dobbiamo sprecare dei turni per muoverci. Però... Utilizzerò il colpo di pistola per mirare a lui. Perché Dismas può comunque stare dietro. Loro invece non possono stare davanti. Spingemelo dietro. Grande! Senza volerlo, in realtà mi ha aiutato. Mi ha spinto la troppa dietro, che comunque non ha troppa distanza. Adesso lui potrà utilizzare queste abilità sue. Vedete che le posso utilizzare solo indietro, se no avrei potuto utilizzare solo incisione. Direi di potenziare lui così, oppure di puntare a lui. No, potenziamo lui. Potenziamo il nostro amico. Mano di luce. Ok. Abbiamo il buff, 25 giotto di danno. e precisione, che mi interessa molto. Dismas può attaccare dal secondo spazio, quindi va bene, perfetto qua. Però penso di puntare al... alla protezione. Così abbiamo il 30%. 25? Non era solo 20? Stram, mi ricordavo 25. Lui può sanguinare invece. Gli scheletri no, ma lui può sanguinare. Quindi facciamolo sanguinare. Ah, dicevo di puntare al scemo lì. Mi sono già dimenticato. Quando parlo di gioco, sono un po' ritardato io. Non me lo spingere dietro. Ah, che cavolo. Sanguinamento. No, ha resistito al sanguinamento. Era grande. Eh, la vestare davanti è un rischio. Vediamo. Facciamo un'incisione su di lui, così morirà. E poi con Dismos proviamo a sparare al coso. Lo scemo lì, da dietro. Oppure poi proviamo la raffica. Mmm, è tosta. Dobbiamo far muovere lui. Se no... Perché passando il turno aumenta lo stress. Perciò dobbiamo per forza muoverlo. Facciamo così. Ok, sono morti in due. A posto. Mi è andata bene. C'era un grande rischio che lui schivasse. Però, è andata bene alla fine. Diamo il morbo a lui. Così 5 danno. Sei proprio suino. Cioè 90%. Sì, può sembrare ingiusto, però... Credetemi. È giusto così. Non deve essere un gioco facile. Questa è la magia di Darkest Dungeon. Non è un gioco facile. Non è un gioco per le persone deboli di cuore, diciamo. Un'altra cosa che non vi ho detto, se uccidiamo un nemico con il colpo critico, morirà il cadavere e non comparirà. Se invece morirà inoltre per morbo e sanguinamento, neanche lì il corpo comparirà. Intendo il cadavere che blocca il percorso per raggiungere altri nemici. Invece, qua abbiamo un forziere. Ogni forziere, ogni oggetto che utilizziamo, come potete vedere, ha questa cosa opzionale. Noi possiamo scegliere di mettere un oggetto a caso che abbia un effetto che sia collegato, ovviamente. Se scegliamo di utilizzare una benda, ovviamente ci sarà la scritta. Non ha avuto alcun effetto e sprecheremo l'oggetto. Se invece utilizziamo la cosa giusta, quindi in questo caso la chiave Passepartout, sicuramente avremo un buff. Quindi utilizziamo la chiave Passepartout che ci aumenterà il numero di tesori che troveremo dentro. Ha trovato un scompartimento segreto. Scusate, mi si è interrotto l'audio perché stavo bestemmiando per il fatto che ho trovato solo 100 di oro utilizzando una cavolo di chiave. Erebbe medicinale. Vabbè, abbiamo trovato i due busti ma alla fine, porca miseria, ho utilizzato una chiave e mi aspettavo almeno 1000 di oro. Che povertà, porca miseria. E proseguiamo la nostra avventura. Tra poco utilizzerò la torcia. Trappola. Alcune trappole possono essere viste, alcune invece, come siamo stati sfigati adesso, non le abbiamo viste. Poi quando le vedremo abbiamo la probabilità di disarmarle. ogni classe ha... Oh, esplorazione alla grande. Come vedete, l'esplorazione ci mostrano tutte le stanze che ci circondano, tutti i reperti fino al... Dipende in realtà dalla distanza. Molte volte saranno le stanze più vicine, adiacenti. In questo caso possiamo vedere che c'è questo cimeglio. Oh, strano. La cleptomania di Reynold non ha colpito. Ah, è vero. Possiamo utilizzare il cibo per curarci. Questo non ve l'ho detto. Uno, due, tre. Possiamo mangiare fino a quattro razioni fino alla prossima battaglia. Ogni razione di due vita. E io appunto a questo. Dobbiamo sempre tenere del cibo perché c'è una percentuale bassa, ma c'è comunque che compaia un messaggio. Ehi, i tuoi eroi hanno fame e tu sei obbligato comunque a consumare quattro razioni. Ecco. Ecco. Ne stavo parlando. Se non mangiamo subisci il 20% di vita, tutto il danno sulla vita massima, 20%, e danno da stress. Se invece mangiamo curerà tipo... Ah, 5% di salute però consumerà quattro razioni. Ovviamente è sempre consigliabile avere almeno quattro razioni per tutti gli eroi così non perdiamo il 20% di vita e prendiamo il danno da stress. Però curerà meno vita. Questa è una cosa che non mi piace perché se mangiamo le razioni ci danno due di vita. In questo caso avete visto uno, uno e uno però lui due. È molto sfortunata come cosa. Però, dai. 500 della vita significa che statisticamente parlando il 5% per questo cura solo uno. Questa è una trappola eh, vabbè, potevo andarci effettivamente a farvi vedere come funziona la trappola ma ormai. Ormai oh, uno di detriti. Meno male che ho preso due vanghe. Secondo me questa sarà una stanza da battaglio. Facciamo la torcia mentre entriamo. Esattamente. Ogni stanza che ha un forziere così sicuramente ha la battaglia. Purtroppo non ho la chiave. Questo qui è un tank. Occupa un solo spazio però vedete che ha il 25% di protezione. Questo qui è uguale al tipo lì quello che lanciava le maledizioni da lontano. Semplicemente ci lancia dell'acqua dal suo bicchierino. Se invece è in prima posizione ci accoltellerà principalmente. Quello lì è un balestriere. Bravo a schivare. Però penso di puntare a loro due che sono distanziati e sono quelli là che colpiscono sullo stress. Lui ha buona probabilità di critico. Lui è pericoloso. Anche se hanno comunque la stessa probabilità di critico più o meno. lui è il più pericoloso di tutti. Perché davvero tutti i colpi la maggior parte dei colpi critici che ho subito su Darkest Dungeon è stato Dan Balestrier. Mi aspettavo di vedere il colpo critico davvero. Ero troppo lì a dirlo. Vedete? Ero troppo lì. Allora direi di puntare a lui. Lo stressiamo vediamo. Ok stordito a posto. Quanta vita? 5 di vita. Eh dovrò colpirlo di nuovo. Proviamo proviamo con non lo so voglio puntare anche sul Balestrier. Facciamo così. Usiamo questa che mi dà che mi dà cosa? Che mi dà il 12% di danno utilizziamo su di lui così togliamo almeno uno di vita almeno uno comunque in questo caso tre morirà sicuramente il prossimo turno scomparirà e poi noi col 12% di danno potremmo utilizzare la pistola per uccidere Balestrier. Dovrebbe bastare. Utilizziamo su di lui ovviamente la provocazione marchiato e vuol dire che il nostro eroe avrà una maggiore probabilità di essere targettato dai nemici. Ovviamente è un'abilità da utilizzare perché aumentiamo i danni subiti e noi preferiamo che di lì Reynolds subisca più danni essendo il nostro tank rispetto alle truppe più fragili. Direi di usare il colpo di pistola secondo me lo faccio fuori e invece no. Sfigato. E poi allora devo per forza utilizzare la peste. Adesso 8 danno lui è morto di sicuro alla grande. Grandiosa l'arma che taglia da sole. Parla della velena evento ovviamente. Stordiamo lo scemo perché lui ha l'abilità di proteggere lui può proteggere le altre truppe quindi se per esempio lui usa protezione e noi cerchiamo di attaccare su di lui e noi cerchiamo di attaccare lui prenderà i danni lui e subirà meno danni ovviamente perciò lo stordito così non utilizzerà protezione allora punizione divina 10 danni devo per forza potenziare l'equipaggiamento appena lo sblocco infatti appena lo sblocco infatti è quello che farò il morbo e il sanguinamento tra lì bypassano qualsiasi resistenza alla protezione che i nemici hanno quindi in questo caso anche sul 25% di protezione conviene sempre avvelenarlo perché questi 5 danni bypassa tutta la sua protezione userei stordimento ma in questo caso ho il 100% 110% meno il 75% suo quindi è una bassa probabilità di stordirlo che comunque è presente e decido di rischiarmela e infatti ha resistito fino alla prossima azione lui infatti avrà il 50% di resistenza agli stordimenti quindi è una cosa per compensare gli stordimenti per non renderli troppo sbilanciati perché ovviamente se non ci fosse rischiamo o che i nemici siano sempre storditi o che i nostri eroi finiscono per essere sempre storditi quindi diciamo che è un oh quella mi è piaciuta 17 danni dicevo o che i nostri ragazzi vengono colpiti sempre o quei nostri amici vengono colpiti sempre anello dello sterminatore delle bestie meno 8 schivata però 25% danni alle bestie penso di utilizzarlo su Raynaud quando andrò nel bosco perché bestie mi pare che siano solo nel bosco giocando in inglese non riconosco le classi dai nomi mi ricordo però bestie sono abbastanza sicuro che siano in realtà nel bosco allora voglio aprire no voglio aprire il forziere prima ok c'è una probabilità che sia una trappola però che cavolo parlo volevo comunque sapere c'era comunque la probabilità che fosse un tesoro e invece non avevo avuto fortuna allora saltiamo prossimo 6500 di ore oh solo lui c'è un quirk secondo me è un debuff infatti fa migliorato bar ma tutti i bari abbiamo qui abbiamo 3 bari nella squadra il 75% della nostra squadra è di bari come? chi è che ha preso un tratto negativo grave? oddio non ho letto che è successo? ma l'ho disattivato che me ne frega me del circo l'ho disattivato? che vuoi dire a me? no non lo voglio attivare non mi romperai le scatole clepto no la peggiore cioè preferivo famigerato baro la cleptomania è diventata una quirk che vuol dire? che non può essere sostituita allora che vuol dire? fatemi spiegare bene io quando spiego ho tipo 10.000 cose in testa quindi alla fine finisco per spiegarne di quelle 10.000 ne spiego 10 il 10% di ognuna concentriamoci su questa ogni eroe può avere un massimo di 5 tratti quando supererà i 5 il prossimo tratto a caso sostituirà un tratto che abbiamo noi quindi in questo caso per esempio se arriviamo a 5 quirk il prossimo quirk che potrebbe essere il più inutile del mondo magari mi danno 500 di resistenza a seguinamento e mi toglie il 10% di danno ovviamente che noi vogliamo noi non vogliamo che quel 10% di danno sparisca però se è così è così la sfiga parla invece se noi lo rendiamo c'è il rischio ma solo per i debuff che diventano gravi si possono comunque rimuovere però che significa che quando è grave tra quei 5 debuff lui non può essere non può essere tolto se non curato dentro la casa di cura l'unico modo per rimuovere un quirk un debuff grave è curarlo la casa di cura in questo caso kleptoman è davvero fastidiosissimo perché molti oggetti mi verranno rubati da un crociato che tecnicamente deve essere un timorato di dio eppure timorato di dio quindi però è grave possiamo comunque come dire proteggerci pararci il culo rendendo gravi come dire rendendo solide anche i nostri tratti positivi però ovviamente dovremmo pagare oro invece i debuff a caso diventeranno gravi comunque gente abbiamo sbloccato la taverna che serve per recuperare lo stress quindi per curare la cosa bianca basta semplicemente spostare le persone lui non può andare qui né qui perché è un timorato di dio il che vuol dire che lui l'unico modo che ha per rimuovere lo stress è andare nelle abbazie e pregare è un suo debuff questo qui quindi se vogliamo rimuovere lo stress da lui possiamo metterlo solo qui ovviamente rimuovere lo stress costa dell'oro e in che cosa consiste che per una battaglia noi non avremo a disposizione questo eroe se facciamo questo rimuovi stress così come la taverna è lo stesso concetto invece l'oro sono famigerati i bari quindi l'oro non possono scommettere in questo caso il brivido lì il gioco d'azzardo ci permette c'è una bassa probabilità che comunque il nostro eroe vinca paghiamo questa somma qui magari vabbè sono famigerati i bari però c'è comunque una probabilità che ci porti a casa del denaro però c'è anche la probabilità che che semplicemente prenda dei debuff come famigerato baro molti dei nostri allora molti dei nostri debuff per esempio c'è il bordello nella taverna di solito si finisce per trovare i più debuff possibili però è comunque quella che cura più stress tra tutte invece l'abbazia per lo più raramente dà dei debuff però cura un po' meno stress rispetto alla taverna comunque come ho detto è tutto compensato in questo gioco ti prendi dei rischi puoi guadagnarci puoi perderci non li prendi non puoi sapere se vinci e ovviamente controllerò la diligenza però abbiamo fatto un'introduzione del gioco abbiamo spiegato un po' come funziona non ho ancora spiegato queste cose come funzionano ma lo spiegherò nel prossimo episodio davvero un gioco complicatissimo molto lungo cioè ci metterei una vita a spiegare infatti ci penserò nel prossimo episodio perché ci salutiamo qui terminiamo il primo episodio salutandoci mi auguro che vi iscriverete al canale lasciate un commento un like magari condividete mi auguro anche di rivedervi nel prossimo video di nuovo di Darkest Dungeon dove faremo vediamo cosa abbiamo sbloccato non abbiamo ancora sbloccato niente però abbiamo sbloccato il primo boss no? ah no ok non c'è ancora il primo boss perché comunque devo devo fare lì cosa devo era solo una missione iniziale semplicemente per questo era 0 adesso che ha 1 semplicemente dovrei riuscire a sbloccare quando arriverò al livello 2 sbloccherò il boss perciò come ho detto ci salutiamo qui vi auguro una bellissima serata eh bella 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 bella